Il 29 maggio convocate le assemblee straordinarie di Sogeal e Geasar per la fusione e la nascita di Nord Sardegna Aeroporti. La regione è pronta a dare battaglia. L'ex governatore Soru attacca F2I Cabras. Allarme e degrado nelle case popolari di Via Matteotti e Via De Gasperi, gestite da area. Mancano le risorse per intervenire. Nuova denuncia del consigliere comunale Mulas. Non resta che rivolgersi alla magistratura, dice. Nella pagina sportiva parleremo del primo grande colpo di mercato dell'Alguero. Arriva Barai, ex Catania, Salernitana e Avellino. L'AFC Alghero ha festeggiato la promozione in seconda con i tifosi. Nel weekend si è tenuta la seconda edizione di Santa Maria La Palma Corre. Un buon inizio di settimana a tutti voi. Bentrovati a una nuova edizione del nostro telegiornale. Sempre in primo piano il tema che sta accendendo il dibattito in queste settimane, ovvero la fusione delle società di gestione degli aeroporti di Alghero e Olbia. Posizioni che sono ancora più chiare dopo l'incontro dibattito che si è tenuto sabato mattina proprio ad Alghero e che abbiamo seguito si guarda al 29 maggio quando potrebbe concretizzarsi la nascita di Nord Sardegna Aeroporti. Ma fanno discutere anche le parole dell'ex presidente della regione, Renato Soro. Appuntamento al 29 maggio è la data che può segnare il crocevia per il futuro degli Scali Sardi, soprattutto quelli di Alghero e Olbia. A fine mese infatti sono state convocate le assemblee straordinarie dei soci di Geasare e Sogeal per definire il progetto di fusione delle due società di gestione e la conseguente nascita di Nord Sardegna Aeroporti. Come regione ci opporremo, ha detto chiaramente anche i nostri microfoni, l'assessore ai trasporti Antonio Moro. L'esponente della giunta ha anche fatto sapere alla quotazione del pacchetto azionario in caso di recesso il valore di 14 euro per ogni azione, dunque circa 5 milioni, ma il rischio, rimarcato da Moro, è che la regione passi dal 28% di Sogeal a neanche il 3% nella nuova società che dovrebbe gestire gli aeroporti di Alghero e Olbia. La regione non intende R3 di un millimetro, ma è chiaro che F2I va avanti per la sua strada e quasi certamente dopo la nascita di Nord Sardegna Aeroporti punterà alla scalata di Cagliari che è di fatto il vero obiettivo dell'operazione per arrivare a una gestione unitaria di tutti e tre gli aeroporti sardi. Intanto hanno fatto rumore le parole dell'ex presidente della regione, Renato Soru, in occasione del convegno di sabato, ha puntato il dito su F2I criticando duramente l'ostilità nei confronti dell'istituzione regionale riferendosi alla lettera firmata dagli avvocati indirizzata all'assessore Moro, ma ha anche attaccato un altro ex governatore, Antonello Cabras, che nel consiglio di amministrazione di F2I per la fondazione di Sardegna non è possibile che non intervenca nel dibattito pubblico, ha tuonato Soru. Qualcosa ce la deve dire, anche perché è stato presidente della regione. Insomma, il dibattito è caldissimo e coinvolge tutti, ma si guarda alla data del 29 maggio per capire cosa accadrà da qui ai prossimi mesi. Parliamo ora invece dei dati dell'ufficio studi della CGA sulla base dei dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze riferite alle dichiarazioni dei redditi IRPEF del 2021 che hanno delineato la classifica dei comuni più ricchi. La notizia è che la località più povera è Cavagna, in provincia di Como, quindi nel nord Italia, che è solitamente la parte del nostro paese più ricca. Il comune con il reddito più alto invece è l'Aiatico, nel centro Italia. Il primo comune capoluogo è Milano, al dodicesimo posto assoluto, con 37.189 euro, seguono Monza, Bergamo e Pavia. Interessanti anche i dati della Sardegna. Cagliari è l'unico comune isolano nella top 300 italiana, con 26.985 euro. Per trovare un altro comune sardo bisogna scorrere la classifica fino al posto numero 2017, dove troviamo Oristano con 22.402 euro di reddito medio. Poi ci sono Selargius e Sassari, quest'ultima al posto 2.162, con 22.199 euro. Scendendo ancora troviamo Alghero con un reddito medio di 20.009 euro. Ma il dato rilevante è che nella top 20 della Sardegna, ben 7 centri sono al sud nella città metropolitana di Cagliari. Altri dati molto interessanti sono quelli che riguardano le imprese, in modo particolare le imprese del nord Sardegna. Sono poco meno di 6 milioni le imprese presenti nei registri delle Camere di Commercio italiane. Questo è il dato di fine marzo, era dal 2006 che non si scendeva sotto questa quota. Il numero delle imprese attive rimane praticamente costante, sempre al di sopra dei 5 milioni e 100 mila unità. In Sardegna, eccoci qui, il dettaglio regionale mostra una generalizzata flessione del tasso di crescita delle imprese. Nel prossimo servizio vediamo però i dati provincia per provincia, in modo particolare il nord Sardegna. L'analisi nazionale dei primi trimestri degli ultimi dieci anni mostra negli ultimi due una stabilizzazione del numero delle iscrizioni delle imprese. Sono poco meno di 6 milioni quelle presenti nei registri delle Camere di Commercio italiane. Un dato, quello di fine marzo, che non vedeva una diminuzione così dal 2006. Le dinamiche generano nel primo trimestre del 2023 un saldo negativo di poco superiore alle 7 mila imprese. Nonostante tutto, le cancellazioni effettuate da gennaio a marzo dell'anno in corso rimangono tra le più contenute dell'ultimo decennio. Il dettaglio regionale mostra una generalizzata flessione del tasso di crescita delle imprese. Secondo i dati elaborati dall'ufficio studi della Camera di Commercio di Sassari, la Sardegna con un buon più 0,15% registrato da inizio anno entra nell'elite delle regioni italiane che rimangono in campo positivo. Solo il Lazio con più 0,19% fa meglio della nostra isola, che si attesta con uno 0,15% e comunque ben al di sopra della media nazionale negativa è pari al meno 0,12%. I numeri ci restituiscono scenari positivi ed è un elemento di assoluta importanza, ma non sempre i numeri definiscono pienamente il sistema. Tiene a specificare il presidente della Camera di Commercio di Sassari e di Union Camere regionale Stefano Visconti. Ottimi i dati dei territori delle Camere di Commercio Sarde, con Cagliari che vanta un eccellente più 0,28%, quarto territorio in tutta Italia per tasso di crescita, seguito immediatamente dalla Corregionale Sassari, quinta posizione nella speciale classifica delle 105 Camere di Commercio nazionali. Un po' più indietro il sistema imprenditoriale oristanese, diciottesimo, e quello di Nuro, cinquantaseiesimo. Le dinamiche delle iscrizioni e cessazioni non d'ufficio della Sardegna del Nord, Sardegna nel primo trimestre degli ultimi due anni, a differenza di quelle a livello Italia, fanno registrare un saldo positivo. Da gennaio a marzo del 2023 nell'isola sono state inviate poco più di 2.000 pratiche di cancellazione non d'ufficio e circa 2.200 iscrizioni, i dati più bassi da quando vengono rilasciati nella banca dati di Infocamere, ovvero dal 2000. Stesso discorso vale per la scarsa vitalità delle aperture e chiusure imprenditoriali del territorio camerale di Sassari. Dobbiamo continuare a perseguire i migliori obiettivi, aggiunge Visconti, e tendere ad un non semplice percorso di crescita. Il sistema economico isolano, nonostante le molteplici difficoltà, ancora una volta sta dando prova di coesione tenuta e questo si rivela ancora una volta un elemento determinante. Il dettaglio comunale mostra le dinamiche espansive rispetto al primo trimestre del 2022 delle principali località turistiche del Nord Sardegna. L'evoluzione negativa del numero degli addetti nel comune di Olbia, circa 300 unità in meno, risulterebbe positiva al fallimento della società di Air Italy. Sassari, invece, ha un saldo positivo di 225 addetti, con un totale di 10.467 imprese e 34.747 addetti totali. Veniamo ad Alghero, allarme degrado alle case popolari di Via Matteotti e Via De Gasperi. Ne abbiamo parlato più volte nel nostro Tg e c'è un nuovo duro intervento del consigliere comunale Cristian Mulas dopo un incontro con il direttore generale di Area. Non ci sarebbero le risorse, non resta che rivolgersi alla magistratura, dice. La situazione di grave degrado delle case di dirizia popolari di Via Matteotti e Via De Gasperi sta prendendo una china allarmante senza fine ed è ancora motivo di forte preoccupazione per i residenti. Il pericolo, determinato dalla mancanza di manutenzione messa in sicurezza degli stabili abitativi, si fa sempre più seria e dopo diversi episodi che hanno aggravato o seriamente minato la sicurezza degli abitanti, non resta altro che rivolgersi alle autorità giudiziarie competenti per denunciare lo stato di pericolo ed incuria degli stabili abitativi. È la conclusione alla quale è arrivato il consigliere comunale Cristian Mulas dopo l'ennesimo incontro con il direttore generale di Area, dottor Filippo Riù, nonostante la disponibilità a risolvere i problemi resta insormontabile il problema della mancanza dei fondi, riferisce Mulas, e nonostante i solleciti di Area in questo senso con richiesta di finanziamento non si riesce a smuovere l'impasse. È estremamente urgente mettere in sicurezza gli stabili lesionati, una situazione più volte oggetto di segnalazioni e denunce, emozioni e interrogazioni e per ultimo un ordine del giorno che verrà discusso nel prossimo Consiglio Comunale, prosegue l'esponente dell'Udc. Facciate fatiscenti, impianti elettrici che parebbero fuori norma, cortili al limite delle condizioni di decenza e servizi quasi inesistenti. Si presentano così gli alloggi popolari di Alghero gestiti dall'area di Via Matteotti e Via De Gasperi dove da oltre 18 anni non si eseguono lavori di manutenzione. Situazione ancora più allarmante per la caduta di grossi frammenti di cemento armato dai balconi lesionati e pericolanti con visibili lesioni riscontrate anche dai vigili del fuoco intervenuti diverse volte. Purtroppo non resta che rivolgersi alla procura della Repubblica per segnalare la grave situazione di pericolo al quale sono esposti gli inquilini dalle palazzine, dice Mulas, ricordando le due interrogazioni presentate a inizio e fine 2021. Da allora però denuncia non è stato fatto alcun passo avanti per la messa in sicurezza. E' stato inaugurato ieri mattina allo Scalotto Arantiello ad Alghero il monumento per commemorare i pescatori algheresi morti 80 anni fa seguito di un attacco aereo. Ieri la Santa Messa in cattedrale celebrata da Don Angelo Cocco nei pressi della costa del Lazzaretto. Il 14 maggio del 1943 fu preso di mira con un mitraliamento aereo tutt'ora inspiegabile per l'obiettivo in sei lerme e un gruppo di barche impegnate nella pesca. Fra gli equipaggi si contarono sei vittime. Michelangelo Accardo, Antonio Alfonso, Giovanni Antonio Caria, Santino Rondello, Giuseppe Salvatore e Pasquale Salvatore. Fu solo il preludio di ciò che sarebbe accaduto di lì a poco quando il 17 maggio del 1943 gli alleati bombardarono pesantemente Alghero con esiti drammatici. Oggi con un monumento loro dedicato, ricordiamo quei sei pescatori algheresi, padri di famiglia che non fecero più ritorno a casa, la cui colpa fu solamente quella di trovarsi in mare, l'unico mezzo di sostentamento sul quale loro e le loro famiglie potevano contare, dice il sindaco di Alghero, Mario Conoci. A loro, alle loro famiglie va il nostro pensiero, ricordando un periodo triste della nostra storia al quale sarebbero seguiti estenuanti sacrifici ma che segnò anche il principio della ricostruzione e della rinascita. Ha aggiunto il sindaco che ha voluto ringraziare a nome dell'amministrazione i familiari delle vittime, in particolare al signor Giuseppe Salvatore, l'artista e scultore Mario Nieddu per l'opera, le autorità civili, religiose e militari presenti e la banda da lerci. Spazio allo sport, ora dopo i festeggiamenti per il salto in promozione, l'Alghero piazza subito un grande colpo in vista della prossima stagione. Joel Baraje è un nuovo giocatore giallorosso, nato a Dakar, in Senegal, nel 1997, un esterno dalla grande forza fisica e rapidità molto duttile, visto che può giocare sia nel reparto arretrato sia in una posizione più avanzata. Cresciuto nelle giovanili del Brescia, club con il quale è esordito in Serie B a 17 anni, nella stagione 2013-2014. Ha maturato una lunga esperienza nei campionati professionistici italiani, collezionando oltre 100 presenze. Salernitana, Catania, Vellino, Padova e Virtus Entella, queste alcune delle squadre nelle quali ha giocato. Ora l'avventura in Sardegna in una squadra, l'Alghero, che punta a scalare subito le gerarchie del calcio isolano. Sono contento di essere qui, arrivo in una piazza importante, in una società che ha progetti ambiziosi. Spero di contribuire alla vittoria del campionato. Queste le prime parole di Joel Baragli in questi giorni in città per firmare il contratto che lo legherà l'Alghero nella prossima stagione. Si tratta però solo del primo di una serie di grandi colpi che il sudalizio del presidente Andrea Pinna vuole mettere a segno per lanciare subito un segnale al campionato di promozione e recitare un ruolo da protagonista. Scendiamo ora invece di qualche categoria in terza perché l'Alghero ha festeggiato davanti al proprio pubblico la promozione in seconda categoria conquistata matematicamente una settimana prima. Penultima giornata di campionato e ultima tra le muramiche al pintore Caddeo di Olmedo. 4-0 risultato finale contro la Ginnasium Sassari con Mister Zani che ha dato spazio alle cosiddette seconde linee. Nonostante la vittoria del campionato Gentasca la formazione giallorossa ha giocato per vincere anche per chiudere in bellezza davanti al proprio pubblico. Finca, Kerchi, Nemo e Catugno questi gli autori dei quattro gol della FC Alghero. Si è svolta ieri invece a Santa Maria La Palma la seconda edizione della maratona non agonistica di 13 km denominata Santa Maria La Palma Corre organizzata dal comitato di Borgata. Oltre 125 atleti si sono ritrovati nel piazzale della cantina di Santa Maria La Palma sfidando la sorte del famigerato meteo che dava nella giornata di ieri Pioggia Catinelle ma così non è stato, dunque si è dato il via ad atleti e semplici appassionati. Il nutrito gruppo di iscritti è scattato allo start del sindaco Mario Conoci presente alla manifestazione accompagnato dall'assessore Antonello Peru e dalla partecipazione attiva in qualità di polisti del consigliere comunale Nimo Perisi del sindaco di Olmedo Tony Faedda e del presidente del comitato di Sassegada Tony Ozzid del presidente del comitato di Borgata di Santa Maria La Palma Abili Simbola ringraziato a nome di tutto il direttivo gli enti che si sono adoperati per la riuscita dell'evento rimarcando una personale soddisfazione per la presenza di un così folto numero di atleti e non che andando oltre ogni più rosea aspettativa si sono presentati allo start della manifestazione una bella giornata di sport e aggregazione che ha restituito soddisfazione al comitato che tanto si è prodigato per la realizzazione di questo evento e per oggi è davvero tutto io come sempre vi lascio alle previsioni del tempo per domani grazie per essere stati con noi e arrivederci